La Regione Campania ha certificato l'ottima percentuale di raccolta differenziata ed il tasso di riciclaggio dei rifiuti urbani raggiunto dal Comune di Giffoni-Sei Casali. Secondo i dati divulgati da Palazzo Santa Lucia, negli ultimi 12 mesi la percentuale dei rifiuti differenziati ha superato l'80%. Per l'esattezza si legge nel documento regionale l'81,9 punti percentuali, con un tasso di riciclo dei rifiuti urbani che sfiora il 60%. Soddisfatto il sindaco Francesco Munno, che commenta i dati. Si conferma il trend positivo delle buone pratiche, dice Munno, messe in campo da questa amministrazione in materia di ambiente. Desidero condividere questo ottimo risultato con tutti i cittadini, con i funzionari comunali e con la ditta Nappi Sud SRL e con gli operatori ecologici che quotidianamente lavorano per migliorare questi successi. Sono sicuro che si possa fare di più e meglio nel prossimo futuro. Sulla stessa linea i consiglieri delegati Giuseppe Alfano e Rosaria Schettini, che hanno sottolineato stiamo raccogliendo i frutti della nuova riprogrammazione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti soliti urbani porta a porta avvenuta più di un anno fa, subito dopo il nostro insediamento.